Il cambio di una libertà maggiore ed agosto fra Botte e Sassaione per via della rivolta sindacale restai solo senza caccare lavoro restai solo con in bocca il nostro amaro e quando poi settembre fuori la fine non potendo dire questo pane mi dissi che è meglio sparire e ad ottobre pensai bene per primo me ne andai a prendere e tu quassù tornaste più quassù ti interessava più niente o forse non c'era un motivo di fatto non tornaste più quassù ti interessava più nessuno nessuno il cambio di una libertà maggiore ed agosto mi forzai di comparire se le pagine di Coca-Cola con l'autunno che tornava ad arrivare da qualche parte si doveva cominciare e tu quassù nessuno e tu quassù tornaste più quassù ti interessava più niente o forse non c'era un motivo niente o forse non c'era un motivo nessuno 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 nessuno